ben ritrovati di nuovo su review.io mi trovo nella mia home gym e vi vado a mostrare oggi un altro prodotto che ho acquistato per la mia home gym si tratta di questi tappeti materiale eva che hanno uno spessore di un centimetro e dimensioni della singola mattonella incastrabile a puzzle di 60 x 60 cm io ho acquistato il blocco da 32 pezzi vi lascio i link in descrizione e devo dire che qua potete vedere solo alcune di queste mattonelle che ho utilizzato al di sopra ci ho posizionato un rack con dei pesi e sono essenzialmente delle mattonelle che diciamo vanno a proteggere il vostro pavimento da cadute accidentali dei pesi o comunque anche se volete apporre al di sopra un rack o degli attrezzi da palestra vi vado a mostrare da vicino come vedete si incastrano questa è la rigidità proteggono davvero bene non lasciano neanche i segni devo dire che al di sotto ho messo uno scotch bioadesivo telato che quindi va a tenerle ben salde soprattutto lì nei bordi perché magari uno camminando inciampa e si alza il tappeto trovate comunque nel link in descrizione diverse quantità io ne ho comprato appunto 32 pezzi ma trovate anche 16 pezzi 8 pezzi sempre di dimensione 60 x 60 cm non è male comunque questa azienda perché ripeto non è facile trovare su amazon tante mattonelle con dimensioni così grandi di 60 x 60 ne trovate altre ma arrivano fino a tipo 8 pezzi anche di dimensione minore quindi è un ottimo acquisto e vi consiglio comunque di disegnare su un foglio la stanza o un garage che intendete diciamo ricoprire di queste piastrelle poi disegnare a mano il numero di piastrelle fino che riuscite a ricoprire diciamo l'area di cui siete intenzionati appunto a proteggere così che potete successivamente capire se vi servono 32 pezzi o 9 pezzi o di meno e quindi capire un attimo quale ordine piazzare link in descrizione del prodotto se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela e iscrivetevi al canale per cui usciranno nuovi video a tema o un giro grazie 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 grazie